Vi racconto questa, ero io capogruppo, agosto del 2013, ennesimo decreto del fare, fare che cosa? Lasciamo stare, caramazza caramide, va bene. Allora, arriva un ingegnere barese che è il proprietario di Telenorma, lui è anche a capo di un network di televisioni private che ci chiedono un emendamento volto a permettere la sopravvivenza di queste televisioni private, importanti, ma che non riuscendo ad ottenere raccolta pubblicitaria per i prodotti locali, sono costretti a dipendere dall'assistenza, dal sussidio pubblico. Noi replichiamo, guarda, forse noi possiamo venire incontro alle tue esigenze con una misura che va a normare il mercato della raccolta pubblicitaria, il prodotto che ha commercializzazione non nazionale avrà un vantaggio ad essere veicolato dalla tv, dal giornale locale, in questo modo tu raccogli e ottieni da un prodotto che è espressione della tua specificità e cresci insieme a quel prodotto. Alla fine in aula ci hanno votato contro il nostro emendamento che avrebbe prodotto danno a quelli che raccolgono pubblicità sul mercato nazionale, guarda caso il Duopolio e Rai e Mediaset, e per lì non si possono toccare. Si sono presi 18 milioni di euro che inizialmente erano previsti per l'implementazione della banda larga e sono stati dati come sussidio a queste televisioni private e locali per poi l'anno dopo rigiocare la stessa pantomima perché queste sono risorse che ti permettono di sopravvivere un altro anno. Tu la lenza o il pesce? Tu il pesce glielo dai sul momento ma poi immediatamente dopo gli devi insegnare a pescare con la lenza perché così deve sopravvivere da sé. Se invece io impongo che la mozzarella di Gioia del Colle faccia pubblicità con Canale 5 e non con Telenorba, è ovvio che poi Telenorba mi va in difficoltà anche l'anno dopo, invece io li devo permettermi di conquistare autonomia. Però tutto questo lo si ottiene mandando alle ortiche il Duopolio Mediaset, Rai, apriti c'è, perché è là che vai a scalfire i veri poteri e quello è il controllo dell'informazione. Quando io vado in televisione, mi riprendono le scarpe, io oggi ho scarpe marroni e calze blu, no, un tempo si dice a due marroni e fanno il perpetto capone, eccomi, e con orgoglio perché quando mi vesto sono velocissima, insomma alla rinfusa e poi via, esatto. Sei sempre elegante, ti ringrazio. E insomma loro alla fine ti rimarcano quel particolare per squalificarti, per denigrarti, per distruggerti. Non lo sappiamo. Capito che ne so, c'ho un capello arruffato, c'ho un occhio gonfio, quello è, pronuncio male una sillaba e non la metteci. Ma la legge Gasparri invece che prevederebbe... Chi è Gasparri, scusate? Gasparri chi? E' quella legge che permette l'1% di tassazioni agli imprenditori che lavorano in campo televisivo, perché la tassazione viene effettuata soltanto sul calcolo del fatturato e quindi a prescindere dagli utili, poi questi sono utili giganteschi quando la raccolta pubblicitaria è forte, ma noi adesso, causa la crisi, il collassamento del nostro sistema produttivo, stiamo registrando un collassamento dei conti dei grandi editori, sia cartacei sia televisivi, per cui è una questione di tempo. Gianroberto ha pubblicato sul blog quell'analisi per cui nel 2017 cesserà la pubblicazione di quotidiani, cartacei negli Stati Uniti, nel 2027 probabilmente in Italia, ma fatemi ecco una cortesia, i giornali certamente leggiamoli, ma non è detto che i giornali siano quelli di casa, come ne conosciamo, ormai ci hanno tante altre condizioni e soprattutto non alimentiamo il mondo debenedettiano, perché è quel mondo il nostro vero avversario, quando Sorgenia alla fine di gennaio stava per saltare per un miliardo e 800 milioni di euro, su cui tranquillamente nessuno ha detto niente, soltanto il fatto quotidiano e pochi altri quotidiani e la cosa è andata... però ogni tanto...